E' stata presentata a Serra San Bruno la guida del Parco delle Serre, edita da Rubettino. Ha introdotto i lavori il dirigente regionale Giovanni Aramini, che ha ricordato come il 33% della superficie regionale rientri in aree dove insistono parchi nazionali ed aree protette. Il patrimonio di biodiversità presente rappresenta un unicum nel panorama regionale italiano. Il parco ha una valenza naturalistica e storico-culturale davvero importante. Un territorio ricco di biodiversità, di habitat, di specie endemiche, dall'abete bianco alle varie specie di orchidee e di viole, ma il parco è caratterizzato anche dai paesaggi straordinari, dai geositi di Nardo di Pace, alle cascate di Bivongi, alle cave di granito dell'Archiforo. E poi il parco è anche spiritualità, con la certosa di Serra San Bruno, è artigianato con la lavorazione del granito, del legno e del carbone, anche l'archeologia industriale della lavorazione del ferro, con le ferriere di Mongiana, della Ferdinand, con le miniere di Pazzano e di Stilo, racconta insomma una storia di straordinaria centralità in un'epoca non molto remota. Intendiamo come ente parco iniziare soprattutto nel periodo estivo, primaverile estivo, fare una serie di incontri sulle due coste che sono prossime al parco delle Serra, la costa ionica e la costa tirrenica, per raccontare la bellezza dell'entroterra. Tanti gli amministratori locali presenti, tra questi il sindaco di Serra San Bruno, il presidente della comunità del parco, i primi cittadini di Nardo di Pace, di Mongiana e di Monterosso. Proprio quest'ultimo ha richiamato l'attenzione dei partecipanti sulla tematica dell'eolico nell'alto piano delle Serre e in particolare nella Faggeta, dove insiste un progetto in corso di esame da parte degli organismi regionali e che, ove mai autorizzato, andrebbe a compromettere ogni prospettiva di tutela e valorizzazione in senso responsabile ed ecosostenibile di un'importante aria verde delle montagne serresi. Per le conclusioni è intervenuto il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso. Per la promozione del territorio penso che questo sia l'inizio di altre, sia di buon auspicio per altre iniziative che possano valorizzare il nostro territorio perché ci sono posti bellissimi come questo che molti non conoscono e che vanno valorizzati per il bene nostro della Calabria e dei calabresi.